Dunque Presidente, se si confermano questi valori per quanto riguarda l'indice RT e nel complesso questa situazione, possiamo dire che dall'unidì prossimo siamo alla riapertura del 50% in presenza delle scuole superiori marchigiane? Noi ci rindirizziamo verso il controllo del contagio e dell'indice RT. Il nostro timore una settimana e mezza fa era che l'indice RT avesse superato l'1 e quindi ci avesse anche proiettato in una condizione di contagio con una forte ripresa perché avevamo denotato una presenza di casi sintomatici per più giorni sopra i 65 quasi ai 70 sintomatici al giorno. E anche nel numero complessivo erano tanti casi, abbiamo sfiorato e superato i 700 casi. Questa settimana appena conclusa invece ci ha restituito una situazione in miglioramento che ci fa preludere a un indice RT che non supera l'1 e una situazione anche di casi sintomatici intorno ai 50. La scorsa settimana praticamente tutti i giorni sono stati intorno a 50 casi sintomatici e praticamente quindi una stabilizzazione verso il basso di questo indice. Se i numeri da qui ai prossimi giorni a quando ci sarà comunicato sarà calcolato l'indice RT saranno confermati noi ci stiamo organizzando per riportare in presenza il 50% degli studenti. Era quello che ha anche scritto sull'ordinanza che avevo firmato i primi giorni di cennio che se lo scenario fosse cambiato sarebbero stati presi dei provvedimenti. Per quanto riguarda la sicurezza nelle scuole cosa pensate di fare? Noi stiamo intervenendo e stiamo studiando quegli interventi necessari per garantire la salubrità delle nostre scuole e delle nostre aule. Aspettavamo un intervento governativo in tal senso non c'è stato quindi stiamo recuperando risorse per garantire la strumentazione necessaria per la ventilazione meccanica controllata delle nostre aule. Che garantiscono il ricambio dell'aria quindi una funzione anti covid ma saranno interventi strutturali che serviranno anche per il futuro. Ovviamente le scuole come sa e gli edifici non sono di nostra proprietà ma sono di proprietà provinciale e comunale quindi chiederemo la partecipazione di questi enti proprietari per rivolgersi a ogni tipo di scuola di ogni ordine e grado. Alla prossima settimana ovviamente si riapriranno le scuole solamente se gli indici comunque tenderanno a scendere perché comunque gli indici prima quando noi li abbiamo chiusi erano in salita. Si sono stabilizzati e stanno scendendo e quindi noi faremo un tavolo con il mondo della scuola, i sindacati, l'ufficio regionale scolastico per vedere questa possibile apertura del 25.